è una bisca che la bisca oggi la utilizziamo spesso volentieri come salsa come riduzione per andare a cuocere o a insaporire non cuocere meglio insaporire alcune pietanze ma la bisca nasce prevalentemente come zuppa pronti partenza via ovviamente la gara consiste nel preparare il maggior più ghiaccio caro il maggior numero ve lo giro così è più comodo il maggior numero di aperitivi spritz ramazzotti due parti di aperitivo ramazzotti il naturale aperitivo che vi ricordo che contiene solamente ingredienti naturali e il colorante arancione che vedete è naturale perché deriva dalla arancia dolce petilo brava brava come lo facciamo con l'aperol che è un po più leggero con vodka liscia vodka alla fragola o semplice liscio senza nulla liscio senza nulla va bene quindi facciamo un red bull liscio senza nulla la nostra luana guarda che ti insegna come si fa a fare un red bull liscio semplicissimo però bisogna avere maestria i tacchi soprattutto perché le nostre ragazze redditi sono tutte le tacche semplicissimo devi girare la ruota dove la freccia si posiziona tu ti porti a casa o un assaggino oppure su questi simboli un grembiule e una cupette porta spaghetti proviamo a girare mettiti là così ti inquadra e non vai facciamo un applauso che ha vinto un grembiule tra l'altro non ho truccato neanche questo è il grembiule e ti do anche un assaggino dei prodotti barilla ti piacciono i baiocchi? ogni giorno si possono utilizzare per esempio colazione e fette biscottate durante il giorno per esempio una merenda in lingua ti ricordo che se la freccia si posizionasse questi due simboli ti porti a casa la cuvette porta spaghetti di barilla proviamo a girare